Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video ottergato airtechnolog.com se non sei già iscritto al canale ti invito a iscriverti per rimanere aggiornato sulle ultime novità e guide tecnologiche in questo brevissimo video scopriremo come mettere in modalità silenzioso oppure attivare i suoni su iphone questa guida è veramente molto semplice attraverso la modalità silenziosa di fatto il tuo iphone non emetterà alcun suono però la vibrazione sarà attiva per disattivarla vediamo in seguito come fare per prima cosa quindi questa funzione è attivabile o disattivabile da un pulsante fisico se prendete il vostro dispositivo e guardate bene il lato sinistro quindi adesso ve lo giro così cerchiamo di vederlo meglio da vicino se guardate questo lato avremo volume giù volume su e qua in alto questo pulsante si tratta in sostanza di una levetta adesso se vedete spostata verso l'alto questo significa che in modalità volume quindi non in modalità silenziosa se vogliamo metterla in modalità silenziosa basterà fare così e la levetta se vedete viene spostata verso il basso e c'è anche una lineetta di colore rosso che ci avverte appunto che è in modalità silenziosa vediamolo dalla parte frontale quindi adesso la levetta verso il basso la tiriamo verso l'alto dirà silenzioso no quindi in questo caso la modalità silenzioso è disattivata se volete attivare invece levetta verso il basso silenzioso sì quindi le suonerie verranno disattivate attenzione però che la modalità silenziosa può essere accoppiata anche alla vibrazione vediamo come toglierla per farlo diventare effettivamente silenzioso quindi non emetterà né suoni e nemmeno la vibrazione andiamo prima di tutto sulle nostre care impostazioni scorriamo in giù fino a trovare suoni e feedback aptico che abbiamo visto in una guida completa come impostare tutte le mani e singole impostazioni quello che ci interessa è questa prima schermata vibrazioni in questo sottomenù ci dice quando non silenzioso quando silenzioso in questo caso se disattiviamo il primo fred quando non silenzioso la vibrazione verrà disattivata quando il vostro iphone sarà in modalità non silenziosa quindi suonerà solo la suoneria appunto ma non ci sarà alcuna vibrazione se disattiviamo invece il flag qua sotto quando silenzioso quindi disattiviamo e ad esempio riceviamo una chiamata una notifica in questo caso non emetterà né suoni e nemmeno una vibrazione in un altro video abbiamo visto anche come configurare la vibrazione te lo lascio qui sotto in descrizione bene amici anche questo video è stato concluso se ti è piaciuto aggiungi mi piace mi raccomando iscriviti al canale al prossimo video grazie a tutti